Sul grafico di Bitcoin si è formata una figura dell'analisi tecnica che si è sempre rivelata molto affidabile. Sto parlando del triangolo rialzista, una figura in grado non solo di dirci da quale parte andranno i prezzi, ma anche fino a dove arriveranno. Ti invito ad aprire il grafico di Bitcoin perché Bitcoin è esattamente in una situazione di questo tipo. Guardate dove i prezzi hanno rimbalzato nelle ultime sedute, stanno facendo proprio una figura da manuale rialzista dell'analisi tecnica. Se vai nell'academy, Riccardo, investire.biz, vai in analisi tecnica e vai in formazioni grafiche, se vai nel triangolo rialzista, eccolo qua, guardate qua, questo è il manuale dell'analisi tecnica. Praticamente massimi sempre allo stesso livello, minimi crescenti, il che significa sostanzialmente che i compratori stanno pompando verso l'alto e hanno sempre più forza rispetto ai venditori, che invece sono quelli che creano i massimi, che non riescono a vincere contro i rialzisti. Guardate che bello, triangolo rialzista perfetto, rottura dei massimi e utilizzo del livello di rottura come supporto da dove ripartire. Ora i prezzi cazzeggeranno qui un pochino, ma a mio avviso Bitcoin è pronto a segnare una nuova stagione di rialzi. Nuova stagione di rialzi che a mio avviso porterà dei nuovi massimi storici. Perché il triangolo come le altre figure dell'analisi tecnica funzionano? Ovviamente non si tratta di magia. Le figure ci aiutano a capire gli equilibri tra domanda e offerta, svelandoci le forze che guidano il trend. E in questo caso proprio si vede bene, cioè il fatto che ci siano dei massimi sempre, dei minimi sempre superiori e dei massimi che rimangono allo stesso livello, proprio anche intuitivamente parlando ci fa capire che chi sta sotto sta avendo la forza di spingere sempre di più verso l'alto. Quando questa forza aumenta così tanto da rompere la parte alta, quindi la resistenza, è un po' come se un argine fosse rotto piuttosto che una linea di difesa da parte di un esercito fosse sfondata. E quindi si vanno a vedere quelle che sono le resistenze successive. Il bello delle figure dell'analisi tecnica è che oltre alla direzione del prezzo, spesso riescono anche a dirci fin dove arriverà il prezzo, ovvero il target price. Calcolare il target è semplicissimo. Infatti basta prendere l'estensione della figura all'inizio, quindi dove i prezzi cominciano ad entrare nella figura e segnare massimi e minimi crescenti, e semplicemente traslare questa stessa distanza dal punto di rottura, chiaramente in questo caso verso l'alto, essendo un triangolo rialzista. Questo ci permette di individuare il target che in questo caso si posiziona appena sotto i 60.000 dollari a Bitcoin. In questo caso le probabilità che i prezzi effettivamente si dirigano verso il target sono altissime, in quanto a tale livello corrisponde anche un'importante resistenza. Quando, come in questo caso, un target price corrisponde anche ad un precedente livello di resistenza, come in questo caso, vediamo infatti che questo livello, appena sotto i 60.000 dollari, corrisponde ad un importante minimo che ha svolto il suo compito di supporto, ma corrisponde anche ad un livello in cui i prezzi hanno trovato una resistenza. Quindi, essendo appunto un doppio livello, sia un vecchio supporto che una vecchia resistenza, molto probabilmente questo livello fungerà da calamita per i prezzi, che con buone probabilità si dirigeranno verso questo livello che, lo ricordiamo appunto, è il target calcolato appunto con il triangolo rialzista. Se questo video ti è piaciuto e vuoi approfondire, ti invito a vedere la registrazione del webinar del lunedì, dal quale ho estratto questi pochi minuti di video, trovi il link in descrizione per vedere la registrazione. Inoltre, ti invito ad iscriverti al prossimo webinar del lunedì, un appuntamento che tutti lunedì alle ore 18, noi trader di investire.biz, teniamo gratuitamente per tutti, appuntamento durante il quale andiamo a vedere le migliori opportunità di trading e investimento per tutta la settimana. Anche per il webinar del lunedì trovi il link in descrizione.